Buonasera, tra poco nuova edizione del nostro giornale, ma subito la sigla e i titoli. Eseguita l'autopsia sul corpo del pizzaiolo ucciso a Crotone lo scorso 7 ottobre, a causarne la morte e un solo proiettile, domani i funerali. Il Tar della Calabria deciderà domani i suoi ricorsi presentati contro l'indizione del referendum fissato per il prossimo 1 dicembre, cresce l'attesa. La Calabria è la seconda regione più povera d'Europa, lo dice un'indagine di Eurostat, ma per l'Istat è quarta in Italia per spesa media alimentare mensile. Sopraluogo del commissario Sin Emilio Errigo nell'area ex Enicam per pianificare i lavori di bonifica e recupero di una delle zone più inquinate della città di Crotone. Tre società, autoveicoli, unità nobiliari e conti correnti sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza di Catanzaro ad un imprenditore ritenuto vicino alle cosche della Sibaritide. Quattro anni fa moriva Iole Santelli, la prima presidente donna della Calabria. Il presidente Occhiuto la ricorda come la prima a raccontare una regione diversa, aperta al cambiamento. Lavoriamo seguendo questa scia. Ancora buonasera dalla redazione del TGT, dunque in apertura la cronaca. Oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Chimiro, il pizzaiolo ucciso a Crotone lo scorso 7 ottobre. Ebbene, secondo quanto emerso dall'esame, a causarne la morte è stato un solo proiettile. Domani sono stati fissati i funerali. La morte di Francesco Chimieti è stata causata da un solo proiettile calibro 9 che ha attraversato fegato e polmone per poi fermarsi ad una vertebra. Emerge dall'esame autoptico effettuato questa mattina sul corpo del pizzaiolo 44enne di Isola Capolizzuto, ucciso a Crotone da un colpo esploso dalla pistola del vice ispettore Giuseppe Sortino, di 37 anni, al culmine di una lite. Dopo l'autopsia eseguita nell'obitorio dell'ospedale di Crotone dall'anatomo patologo Massimo Rizzo, nominato consulente dalla Procura della Repubblica di Crotone, il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali che si svolgeranno domani. L'esame autoptico, secondo quanto si apprende, avrebbe evidenziato anche l'esistenza di un colpo alla nuca di Chimiri che potrebbe essere stato causato allo sfollaggente usato dal vice ispettore di polizia. Intanto proseguono le indagini su quanto accaduto lo scorso 7 ottobre nel quartiere Lampanaro. Sono sei al momento gli indagati. Oltre al poliziotto e al figlio della vittima ci sono anche l'automobilista, con cui il 44enne ha avuto un incidente prima del fatto che deve rispondere di favoreggiamento, i due fratelli e il padre della vittima accusati di tentato omicidi e lesioni gravissime nei confronti dell'agente di polizia. Sul luogo dove è avvenuta la spadatoria hanno lavorato anche gli specialisti del RIS di Messina. Le indagini vanno avanti per chiarire tutti gli aspetti della drammatica vicenda, iniziata con un incidente di lieve entità, proseguita con un inseguimento tra auto, tra le strade di Crotone, infine la rissa, gli spari e la tragedia. Lasciamo per il momento la cronaca. Torniamo ad occuparci della città unica. Il terzo della Calabria deciderà domani sui ricorsi presentati contro l'indizione del referendum fissato per il prossimo primo dicembre. Ne andrà aggiunta una, forse due, la lista delle date chiave già dettate in precedenza, relative alla costituzione della città unica Cosenza rende Castro libero. Al primo dicembre 2024, giorno del referendum, e dal primo febbraio 2027, giorno in cui dovrebbero sciogliersi i tre comuni, aggiungiamo ora il 16 ottobre 2024, perché da qui si passa, affinché queste date potranno essere realmente concrete. Domani, infatti, il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro si riunirà per la discussione della sospensiva sul referendum consultivo sul richiesto delle associazioni rendesi, di ex consiglieri comunali e alcuni cittadini. Il ricorso si basa sulla necessità di sentire i comuni interessati, passaggio che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato posto in essere dalla Regione, che avrebbe bypassato i consigli comunali, non permettendo un confronto democratico nelle sede istituzionali. Un giudizio questo che quindi potrebbe far slittare il referendum del primo dicembre, che lo ricordiamo è consultivo, ma che comunque dovrà rivestire un peso specifico notevole nella vicenda e sta generando un acceso dibattito politico. Sempre nel novere delle date chiave potremmo anche doverne aggiungere però un'altra, ovvero il 6 novembre. Anzi, proprio questa data potrebbe prendere il posto del 16 ottobre perché la seduta del TAR potrebbe anche essere spostata. Esistono infatti altri due ricorsi, ovvero quello presentato dal sindaco di Cosenza e quello del comune di Castrodibero. Il TAR quindi potrebbe unire i tre ricorsi e la seduta slitterebbe così di circa 20 giorni. La Calabria si posiziona quarta per la spesa media mensile alimentare, un dato che però stride con il report dell'Eurostat, secondo cui proprio la Calabria è la seconda più poveri in termini di sviluppo. 562 euro è la spesa media mensile che i calabresi versano per comprare pesce, verdura, pasta e altri alimenti del paniere alimentare. Nello specifico, nella nostra regione si spendono in media al mese 112 euro per la carne, per i salumi e per i formaggi, 89 euro per pasta, pizza, pesce, pane e cereali, 74 euro per la verdura. Acquisti che in base ai dati Istat posizionano la Calabria al quarto posto, dopo Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, su una media nazionale della spesa alimentare mensile di 526 euro. Il cibo è tra i calabresi la terza voce del budget, dopo casa, affitti e bollette. Un aspetto importante, spiega il presidente di Coldiretti e Calabria. In Calabria, anche se c'è un reddito o capite più basso rispetto alle regioni del nord, però evidentemente il costo per la casa, il costo per gli affitti è notevolmente inferiore e questo determina una maggiore potenzialità di spesa in altre voci, come ad esempio quella alimentare. Nell'analisi di aggetto entrano in campo anche fattori come lo spopolamento e l'immigrazione. È un fatto positivo perché se ci andiamo a condondare rispetto ad una regione come la Lombardia, nelle nostre famiglie spendiamo il 10% in più della spesa alimentare e questo sicuramente dà un contributo positivo all'economia locale, ovviamente a condizione che la maggior parte dei prodotti che vengono messi nel caderno della spesa siano prodotti ottenuti da produzione e trasformazioni realizzate in campo. E su questo argomento il commento dell'economista Gepino De Rose. Ci sono statistiche sorprendenti e che comunque parlano di noi forse più di tante altre parole. La Calabria è l'ultima regione d'Europa, secondo una recente statistica, dal punto di vista dello sviluppo, delle problematiche eccetera, però sorprendentemente siamo la regione addirittura al quarto posto per la spesa alimentare. Adesso ci saranno analisi sociologiche, controsociologiche che ci spiegheranno il motivo, ma resta una motivazione interessante da capire. Che cosa c'è dietro questo consumo alimentare? Una regione spendacciona, godereccia, edonistica, oppure, come spesso accade, una spesa alimentare è viceversa indicatore di una crisi fondamentale, perché tradizionalmente le regioni che spendono molto per spesa alimentare, lo si vede anche negli Stati Uniti, sono spesso quelli che hanno problemi strutturali di natura molto più importanti, per cui all'importante mangiare, poi Dio ci pensa, potrebbe essere forse una delle chiavi di risposta. O c'è qualcosa di più significativo di una regione che fa fatica ad impossessarsi di modelli più salutistici? Domanda importante e certamente difficile a cui rispondere. Sopraluogo del commissario Enrico sui luoghi dell'ex Enic, il sito interessato da una procedura fallimentare può essere sottoposto al recupero ambientale. Stamattina al sopralluogo sull'area Gress ex Enic, per capirci siamo a Crotone da parte del commissario Sin Errigo. Si tratta di 14 ettari sulla statale 106, resta lo scheletro in cemento di quella che è stata la storia industriale della città negli ultimi decenni. Prima Enic, poi nel 2009 la Croton Gress. Oggi c'è una procedura fallimentare e il sito rientra in quelli di interesse nazionale che Errigo visita per la prima volta. Io come commissario mi devo interessare degli interventi di bonifica e della realizzazione anche degli interventi per riparare il danno ambientale che storicamente e comunque attualmente si sta verificando perché queste incurie possono creare anche altri danni. Però siccome, come ha detto la sovrintendente, si tratta di beni anche di rilevante interesse storico, vanno valorizzati, vanno recuperati nei limiti del possibile e insieme naturalmente alla componente specializzata dell'arma dei Carabinieri vediamo se ci sono situazioni che meritano attenzione per aiutare anche, sostenere e supportare il curatore fallimentare del Tribunale a risolvere i problemi che lui da solo non può risolvere. Un'area che è finita all'asta, ma dal punto di vista della bonifica che punto si è? Diciamo che è stata fatta una importante opera di smaltimento di materiale potenzialmente inquinante, materiale ferroso, lana di roccia tant'è che oggi presenta il sito degli ampi spazi laddove c'erano dei manufatti costruiti con questo materiale e questo ha consentito di migliorare la situazione. Oggi presente è anche la sovrintendenza, si può parlare per questo sito di archeologia industriale? Assolutamente sì. Mi meraviglia il fatto che in qualche modo non sia stata data rilevanza storica al fatto che l'area industriale, che oggi ovviamente crea molte problematiche che devono essere assolutamente risolte, possa costituire anche però un esempio di architettura industriale degli inizi del Novecento di assoluta pregevolezza. E torniamo alla cronaca con un sequestro di beni ad un imprenditore ritenuto vicino ai clan di Indrangheta della Sibaritide. Ci sono anche tre società con i relativi patrimoni aziendali che comprendono numerosi veicoli, tre unità immobiliari e conti correnti fra i beni sequestrati dallo scico del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro ad un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca Fora Stefano Abruzzese. Il provvedimento adottato nei confronti dell'imprenditore che rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da pericolosità qualificata è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione. L'imprenditore, secondo quanto si apprende, risulterebbe coinvolto nei procedimenti penali denominati Gentleman 2, Cossa e Atena che hanno riguardato la cosca operante nella Sibaritide e nei quali rispettivamente sono stati ipotizzati i reati di partecipazione all'associazione dedita all'importazione internazionale di sostanze stupefacenti truffa ai danni dello Stato e violenza privata tutti i reati aggravati dall'agevolazione della cosca commessi nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023. Il provvedimento odierno adottato nell'ambito delle misure di prevenzione sulla base di indagini economico-patrimoniali coordinate dalla DDA di Catanzaro e affidati agli specialisti della sezione misure di prevenzione avrebbe portato gli inquirenti ad esaminare la posizione reddituale del destinatario e dei suoi familiari allo scopo di verificare l'effettiva disponibilità alla provenienza dei beni e la sproporzione del relativo valore rispetto ai redditi dichiarati e all'attività lavorativa. Nel prossimo servizio invece vediamo qual è la situazione su Corso Telesio a Cosenza, zona inibita al traffico. Servirà ancora qualche giorno per terminare i lavori in corso nel centro storico e rimuove le transenne che limitano il traffico su Corso Telesio. L'ordinanza della Polizia Municipale è stata prorogata fino al 17 ottobre per consentire l'ultimazione dell'intervento sulla pavimentazione. Nella zona interdetta al traffico sono rimasti pochi esercizi in attività. Hanno chiuso da tempo ormai una lavanderia, una rivendita di tabacchi e un acconciatore. Tra le sale cinesche abbassate e le insegne in legno ormai sbriciolate e sbiadite resistono un restauratore, un negozio di articoli per calzolaie e calzature che Raffaele Nudo inaugurò nel 1936, e una casa editrice aperta nel 2014 ai tempi del Temporary Store. Nessuno gli ha intervistati, si dice infastidito dalle chiusure, anzi. L'abbiamo presa con filosofia, per fortuna la parte che riguarda noi è durata giusto una settimana. L'unico disagio è stato il preavviso, siamo stati avvisati la domenica sera che il lunedì avrebbero chiuso. La cosa positiva di questi lavori è che ci sono più persone che camminano a piedi. Per i commercianti del centro storico, superstiti di una crisi che ha cancellato quasi 100 attività negli ultimi 12 anni, gli interventi sono necessari. Anzi, sarebbe il caso di estenderli ad altre aree e di migliorare la viabilità ordinaria penalizzata dai crolli che hanno istruito diverse strade interne. Un esempio? Mangano cariche e scarico, mancano parcheggi a tempo, mancano parcheggi per i residenti e poi ci hanno tolto la comodità che avevamo da via Giuseppe Campagna, si scendeva, poi si arrivava sotto allo Spirito Santo. Allo Spirito Santo c'era il doppio senso che andava al parcheggio a lungocrate. Oggi che dobbiamo fare? Per andare, arrivi qua, un residente che deve poggiare una spesa o un qualsiasi e per andare a parcheggiare sul parcheggio a lungocrate deve andare fino a Viale Trieste, fare il giro della Villa Nuova, imboccare a lungocrate e venire di nuovo qua. Stiamo parlando di linee aree 100 metri. Lavorare nel centro storico non è da tutti, ce la fa solo chi, oltre alla grande passione, ha costruito negli anni una clientela filerizzata come la Bottega Salvati, aperta nel 1929 come calzaturificio e che oggi, dopo tre generazioni, continua a effettuare riparazioni nel cuore città vecchia. Rimaniamo a Cosenza per l'undicesimo meeting nazionale della Polizia Locale. Non solo un appuntamento per edete ai lavori, ma anche il coinvolgimento di scuole, di importanti relatori e di rappresentanti istituzionali. E' questa Pol 2024, undicesimo meeting nazionale della Polizia Locale, che si terrà al Castello Svevo di Cosenza. Saranno diversi gli argomenti che saranno affrontati nel corso di una o due giorni di alta formazione. Condividere è soprattutto consentire ai membri della pubblica amministrazione di tutta Italia di fruire di formazione, aggiornamento e informazione gratuita nel meridione, che è già un'eccezione, prevedendo la condivisione delle scuole, quindi delle nuove generazioni, facendo un'educazione formativa, civica, anche con riferimento al Codice della Strada, e condividendo anche queste informazioni a vantaggio degli iscritti degli ordini professionali. Il tema principale di questa edizione sarà tutela e sicurezza del territorio, tecnologia al servizio dei cittadini, e al di là dei contenuti, anche per la città di Cosenza, l'orgoglio di ospitare una manifestazione del genere. Ricoprire un ruolo di primaria importanza nel panorama nazionale, avere per 11 anni consecutivi un evento di questa portata nella nostra città, ci proietta a un livello che in altre città, devo dire, non c'è, perché un evento così qualificato e qualificante, con la partecipazione di ben tre università, con la partecipazione di tre ordini professionali, beh, non credo che possa non suscitare l'ammirazione da parte di chi rappresenta questa comunità e questo territorio. Quattro anni fa moriva Iole Santelli, prima presidente donna della regione Calabria, beh, oggi in tanti hanno voluto ricordarla. Una donna come Iole Santelli non si dimentica il suo breve ma intenso passaggio alla guida della regione è rimasto nel cuore dei calabresi. Decisionismo e dolcezza, idee e voglia di fare ne hanno caratterizzato la presenza. Eletta in un momento difficile per la storia della Calabria, ha da subito lavorato per invertire la narrazione di questa terra che immaginava fiera, forte e propositiva. L'impatto terribile con la pandemia, la gestione di quei giorni difficili, lo scudo eretto per difendere la sua gente, sapendo benissimo i tanti guai del sistema sanitario calabrese, ha urlato all'Italia intera il disagio dei nostri territori, le difficoltà senza mai tirarsi indietro. Amava la vita, Iole, le genti, le città e la sua in particolare cosenza, verso la quale ha sempre mostrato l'amore intenso, viscerale. Sono passati quattro anni da quel terribile giorno, nel quale ha chiuso gli occhi ed è volata in cielo, ma rimane vivo in tutti il suo ricordo, i suoi sorrisi, la sua determinazione, la sua inguaribile positività. Quattro anni senza Iole, una donna straordinaria, la prima donna a guidare la Calabria da presidente, una donna che durante il suo periodo di governo ha cambiato anche l'immagine della nostra regione, ha iniziato un percorso che oggi sta proseguendo il governo regionale guidato da Roberto Chiuto, un percorso di rinascita di una regione che aveva bisogno di essere valorizzata. Iole Santelli ha tracciato questo percorso, un percorso che non tornerà più indietro e che continuerà a valorizzare quella terra che lei amava più di se stessa. A Reggio Calabria adesso per il premio Cosmos 2024 per la migliore opera di divulgazione scientifica. Grazie. Se lo aggiudica Giuseppe Mussardo il premio Cosmos 2024 con Maximovic in un teatro cirato esaurito per la cerimonia finale, il riconoscimento consegnato dal sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà. La storia di Bruno Pontecorvo vince dunque l'edizione 2024 come migliore opera letteraria di divulgazione scientifica, il premio organizzato in collaborazione con i Ministeri dell'Istruzione e degli Affari Esteri e con la Società Astronomica Italiana. Lo ha decretato la giuria scientifica presieduta da Gianfranco Bertone dell'Università di Amsterdam. La cinquina finalista composta oltre che dal vincitore da Silvia Bencivelli, autrice di eroica, folle e visionaria storia di medicina spericolata, Marco Ciardi con Quando Darwin incontrò Flash Gordon, scienza e cultura di massa tra 8 e 900, Gianfranco Giudice, autore di Prima del Big Bang, come è iniziato l'universo e così è avvenuto prima, Fabrizio Benedetti e Luca Morici, già vincitori del premio Cosmos, studenti per viaggio al centro del cervello, esplorare la mente con parole, immagini e fumetti. Questo format di premio di divulgazione di libri scientifici accoppiato con un festival della scienza, grazie soprattutto a Gianfranco Bertone, è stato replicato sia in Francia che in Olanda, quindi sicuramente credo che si possa affermare che questo è il festival della scienza più importante del sud d'Italia, quindi siamo molto contenti. E adesso il calcio di Serie B riprende la preparazione in vista del campionato che venerdì vedrà di fronte Bari e Catanzaro, poi sabato toccherà al Cosenza in trasferta a Cittadella. Sarà l'anticipo tra Bari e Catanzaro ad aprire la nuona giornata del campionato cadetto che riprende il Tour de Force dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Saranno settimane di fuoco prima del nuovo stop con cinque sfide a raffica, fra cui un turno infrasettimanale, ma tornando alla gara di venerdì del San Nicola si sfideranno due formazioni che hanno invertito in estate i direttori sportivi Magalini al posto di Pulito e viceversa. Vedremo chi avrà operato meglio sul mercato. Intanto a Cosenza, dopo la batossa arrivata dalla Corte d'Appello Federale della FIGC, si torna a sgambettare in vista della sfida con il Cittadella, che è cambiato allenatore dopo l'ultimo KO inflitto dal Sassuolo. Dal canto chiamato a sostituire Gorini, ma ai lupi poco importa, serve fare il risultato e tornare a macinare gioco e punti per gettarsi alle spalle l'ultima posizione in classifica. Adesso il basket, serie B interregionale con la viola che cale il poker e va saldamente in testa. Quattro successi su quattro gare per la re del viola Reggio Calabria che cale il poker battendo al pala Calafiore il quintetto del Castanea. La formazione calabrese condivide il primato in classifica con l'Angli e guarda con fiducia i prossimi impegni visto che sabato il calendario propone un'altra sfida sul parquet di casa spinti dal calore del pubblico contro Milazzo. Ma tornando a successo sul Castanea allenata dall'ex Claudio Cavalieri i ragazzi di Coach Cadeo si impongono per 82-69 grazie all'allungo iniziale e il Nero Arancio dominano per tutti i quattro parziali con Ani in evidenza al tiro che alla fine è il miglior realizzatore di casa con 18 punti. Ma è stata una gara spettacolare con schiacciate conclusioni da fuori che hanno esaltato il numeroso pubblico. Ancora uno stop invece per la formazione rendese allenata da Coach Carbone orfana del playmaker Ginefra fermato da un infortunio. La bimbum dopo l'ottima prestazione nel derby con i reggini cade in trasferta per mano di Piazza Armerina considerata tra le favorite alla vittoria finale. Una sola vittoria su quattro gare per i biancorossi attesi da un'altra sfida proibitiva domenica alle 18 quando al polifunzionale di 4 Miglia arriverà la capolista Andri. Ed è davvero tutto grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.